Ci dà aritmeticamente il terzo posto perché qua siamo tutto per scontato ma per noi arrivare terzi sarebbe importante perché il Fano, se non vincevamo ci stavano uno o due punti quindi dopo questa vittoria ci siamo garantiti lo sconto diretto in casa con il Fano. Ecco perché era importante vincere e penso che abbiamo fatto molto bene oggi. L'Avezzano secondo me il primo tempo ha fatto un pochino fatica dopo hanno ottenuto il pareggio però penso che alla fine della vittoria, la nostra vittoria sia stata meritata. Obiettivo? Salire per voi con i playoff? Non lo so, queste sono cose che riguardano la società, l'obiettivo da allenatore è vincere i playoff, poi dopo tutto quello che riguarda il resto, la burocrazia, lo stadio, le cose, quelle che non mi riguardano. Io provo a vincere i playoff e basta. Guarda io penso che, l'ho detto anche precedentemente, io credo che il Pineto abbia la rosa migliore di forse di tutta la categoria insieme al Catania e penso che vinca il Pineto e se vince il Pineto credo che sia anche giusto perché è una piazza importante. Noi secondo me abbiamo fatto benissimo, noi abbiamo avuto un mese, abbiamo fatto due punti tra cui abbiamo perso in casa con l'Avezzano ma anche in casa con l'Avezzano il primo tempo abbiamo fatto una partita splendida. Purtroppo quel mese abbiamo fatto pochi punti ma se lei mi dice un motivo per cui non l'abbiamo fatto io non lo so perché la squadra stava bene, ha giocato bene ma abbiamo raccolto di meno. Ho tolto quel mese e noi abbiamo fatto sempre bene. Ci riproviamo l'anno prossimo. Ma ripeto, ci dispiace tantissimo non aver chiuso innanzitutto la stagione con la partita in casa con una bella vittoria o con un risultato positivo. Sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che il Trasteve era una squadra forte come lo ha dimostrato. Però alla squadra non posso rimproverare niente, ci ha messo tutto quello che aveva. Purtroppo il secondo gol lo avete visto tutti come un calcio d'angolo dove talmente tanti lisci, talmente tante situazioni. E' il particolare, è la negatività della situazione. Purtroppo è andata così. Ripeto, manca una partita alla chiusura di questa stagione delicata, difficile e molto complessa, soprattutto in questo girone di ritorno. Dico che c'è da andare a prenderci un risultato positivo su un campo difficile, su un campo di una squadra importante, per terminare la stagione come tutta questa stagione, senza mai esserci avvicinata più di tanto alla zona play-out. Devo essere sincero, abbiamo fatto una prima parte di stagione meravigliosa dove tutto è filato liscio, senza nessun tipo di problematiche, mi riferisco a infortuni, squalifiche e organico. Il girone di ritorno basta fare due conti, da Zanon che per squalifica ha saltato più di 5-6 partite, poi si è fatto male, poi è stato squalificato Cisse, è stato squalificato Dos Santos, si è infortunato Cisse, si è infortunato Dos Santos. Non abbiamo più avuto bittaglie per tutto il girone di ritorno, la complessità del girone di ritorno con tantissime squadre rinforzate. È chiaro che una più una più una ha creato un grosso problema, è chiaro che in questo momento c'è grande dispiacere per questa sconfitta, ci tenevamo tanto a chiudere con la nostra gente, con i nostri tifosi, con un risultato positivo. Adesso il calcio è anche questo, dobbiamo leccarci le ferite e terminare la stagione cercando di andare a fare un risultato positivo a San Benedetto.